Buon lunedì a Tiziana Panella che è collegata con noi sempre dal divano di casa. Allora Tiziana, domanda semplice, facile, facile. Come stai? Io sto bene, per fortuna sto bene. Non era uno scherzo. Venerdì avevo detto che sia io che Lucia, mia figlia, eravamo negative. Era arrivato il risultato del tampone ed era la pura verità. Così come era autentica la gioia di poter tornare alla normalità, solo che poi abbiamo scoperto che la giovane donna che vive e lavora a casa nostra è invece purtroppo positiva. Ora oltre ad augurarci che per lei sia un decorso di malattia facile, che appunto continua a star bene, in questo momento sta bene, questo ha significato, come nel gioco dell'oca, ripartire dalla casella di partenza e cioè ricominciare la quarantena che è iniziata appunto nuovamente venerdì. Voglio condividere un paio di cose che ho imparato. La prima è che nel corso della prima quarantena, più o meno a metà, a casa erano venuti a farci un tampone e quel tampone diceva che eravamo tutte negative. Se avessimo ceduto alla tentazione anche solo di andare in farmacia a comprare un farmaco avremmo fatto partire il contagio di molte altre persone. Quindi la prima cosa che abbiamo imparato è che rispettare quella regola di aspettare i dieci giorni e poi fare il tampone che ti consente di tornare alla normalità è fondamentale. La seconda cosa che abbiamo imparato è che quando si parla di media, tu finché non la sperimenti sulla tua pelle, la consideri una cosa astratta. Tant'è che noi avendo fatto quel tampone un po' ci siamo sentiti fuori pericolo. Abbiamo detto vabbè dobbiamo aspettare dieci giorni, però insomma non abbiamo preso il virus. E invece non è così. E lo avevamo pensato a partire dal fatto che si dice che mediamente il virus si manifesta dopo tre, quattro giorni dal contatto con la persona positiva. Nel caso di Maria, che è la giovane donna che lavora con noi, il virus si è manifestato e cioè lei è diventata positiva dopo un numero di giorni più ampio. E questo spiega la parola media, perché appunto è un valore medio quello che noi consideriamo e questo significa che ci sono persone che si contagiano prima e che manifestano la malattia prima, quindi si positivizzano prima e persone che si positivizzano dopo come Maria. Allora perché vi dico queste cose? Perché intanto io credo che non riguardino solo me, riguardano molte delle persone che ci stanno seguendo e perché penso che a maggior ragione, avendolo sperimentato, le regole sono importanti e sono importanti anche quando non ci piacciono e allora l'unica strada è avere pazienza. Pazienza e Tiziana, guarda, dita incrociate per te, per Lucia e per Maria soprattutto. noi ti aspettiamo e faremo compagnia a Lucia e Maria in questo modo. Cominciamo la nostra giornata perché oggi...